Bravo! Goal! Grazie! 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 Chi l'ha fatto un gol? Bravo! Bravo! Grazie! Oh che ha fatto un gol? Gianni! Chi l'ha fatto un gol? Ha segnato il nostro capitano Leonardo Campitelli! Riferete! Qui dà meritato pareggio per la Virtus Castelfreddano qui a Perano. Uno a uno. Manca circa dieci minuti più il recupero.